L'andrangheta è adorazione del male e disprezzo del bene comune. Questo male va combattuto, bisogna dirgli di no. Parole forti quelle di Papa Francesco contro la criminalità organizzata che segna la terra di Calabria con il suo peccato, sostituire all'adorazione del Signore quella del denaro. Il Pontefice le ha scandite nell'omelia della Messa conclusiva della sua visita alla diocesi di Cassano a Lionio, nella Piana di Sibari, alla presenza di più di 250.000 persone nella festa del Corpus Domini. Adoratori del male, ha spiegato il Papa, sono coloro che vivono di malaffare e di violenza. Coloro che seguono questa strada, i mafiosi, non sono in comunione con Dio, sono scomunicati. La Chiesa, che è soltanto impegnata nell'educare le coscienze, ha aggiunto Papa Francesco, deve sempre più spendersi perché il bene possa prevalere. Ce lo domandano i nostri giovani, bisognosi di speranza. Rinunciamo agli idoli del denaro, della vanità, dell'orgoglio e del potere, è stato l'invito del Pontefice per adorare Gesù Cristo, presente nella Santa Eucaristia. Ed ha riconosciuto che ci sono tanti segni di speranza nelle famiglie di Calabria, nelle parrocchie, nelle associazioni, nei movimenti ecclesiali. Prima della Messa, il Papa ha incontrato gli anziani ospiti di Casa Serena, raggiunta dopo aver pranzato nel refettorio del seminario diocesano. A tavola con Papa Francesco, i poveri assistiti dalla Caritas, e i giovani ospiti della comunità terapeutica Saman. Grazie a tutti.